Andrea Gialone Allora, basta, non inquadratelo troppo, adesso stacca Allora, no, no, inquadrate... Com'è, prego? Calvo! Non ho capito cosa non è? Calvo! Ho capito calvo, scusate Ok Auto inquinanti stop alla vendita dal 2035 Finalmente, finalmente siamo proiettati nel futuro, certo Al momento in Italia non abbiamo le colonnine per la ricarica Nemmeno i soldi per comprare auto elettriche che costano il triplo delle altre Ma infatti è per questo che conviene proiettarci nel futuro Perché nel presente non c'è un cazzo Bene Ma poi, esattamente, come funzionerebbe un futuro tutto elettrico? Cioè O metti una colonnina ogni tre metri Oppure cosa fai? Perché la sera torni a casa Giri per cercare una colonnina La trovi libera La carichi Torni in casa È una semplice turbina L'auto La ricarichiamo da soli No, ma è una stronzata Perché forse sono io che non ho fiducia nella scienza Credetemi Perché un sistema si troverà Consideriamo anche che Usando l'energia elettrica Usando l'energia elettrica al posto della benzina Si risparmia Ovvio Basta solo essere olandese La ricarica elettrica in Italia costa sei volte più dell'Olanda Dunque una ricarica per fare 100 km in Olanda costa 80 centesimi In Italia 5,54 euro Al momento per risparmiare Conviene far salire la macchina elettrica su un furgone diesel Andare ad Amsterdam Caricare la macchina elettrica Tornare indietro col furgone diesel Poi parcheggiare sotto casa la macchina elettrica Bella carica dall'Olanda E continuare a girare col furgone diesel Il segreto è non mollare mai il furgone Ora No, ma no, no, no Ora A dirla tutta qualche dubbietto Cominciano avercelo anche in Europa Questa è di oggi, fammela vedere Auto rinviata, data di destinarsi Voto UE su Target 2035 Mancava ancora un sì definitivo Ma il voto finale del Parlamento è stato rinviato Perché ci sono Italia Germania Bulgaria Polonia E Briatore Che hanno chiesto un ripensamento Tra l'altro Briatore è un veterano dei motori Gli hanno trovato anche un nuovo ruolo in Formula 1 Briatore Torna nel Circus Con il ruolo di Brand Ambassador Praticamente organizza eventi per cercare sponsor Credo L'importante è non fargli mai avere un contatto Dico mai Ricordatevelo Mai Fargli avere un contratto Con fratto gli anni Il comunista fratto gli anni Mai Anche 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 Anche